salve ragazzi benvenuti al canale oggi raga di nuovo qui sulla splendida mappa italia ovviamente su farming simulator 19 per continuare ovviamente le nostre belle lavorazioni allora raga io off camera mi sono portato parecchio avanti adesso qua stiamo ovviamente fertilizzando perché ho finito di seminare tutti i campi in con precisione ho finito di seminare il campo 23 il campo 12 che erano i due campi che avevamo all'attivo nell'ultimo episodio ci rimane ancora il campo 21 il campo 1 da seminare che adesso vi dico che cosa seminiamo poi ho fatto però tante altre cose in realtà off camera ad esempio ad esempio adesso ve lo dico ho venduto i liquami cioè venduto ho portato al biogas i liquami a scaricare e poi dovremmo solamente penso mandare avanti il tempo per riprenderci prenderci i nostri soldini prenderci il nostro compenso poi ho vabbè ricreato il percorso per la seminatrice sul campo 23 perché sapete che aveva dato problemi nello scorso episodio quindi ho ricreato il percorso e adesso siamo a posto ho imballato anche perché se vi ricordate che avevamo fatto avevamo fatto le andane di erba per cavallo sul campo a erba e cosa ho fatto e dato che mi ero dimenticato lo scorso episodio me la sono già andata a imballare tutto il fieno me lo sono andato già imballare dobbiamo oggi solamente raccoglierlo poi che cosa ho fatto a ok un'altra roba l'ultima cosa che ho fatto poi off camera è stata questa siccome ma avevamo sempre avuto un po di problemini qui dietro cosa ho fatto rimodellato tutto qua la zona ho creato una stradina e adesso qua dovrebbe c'è un bel po più di spazio ma qua poi detto che c'era una sorta di boh fosso una cosa del genere l'ho un pochettino rimodellato adesso si va molto molto meglio e poi ho fatto anche un piccolo ingresso da qui che se si vuole andare da dietro l'assilo insomma per qualsiasi motivazione si può andare così qua ho creato anche un parcheggio per il per i piccoli bossini che non sapevo mai dove metterlo così ho trovato anche il punto adatto off camera attualmente non ho fatto altro quindi dobbiamo per forza di cose portarci avanti noi prima tra tutte dobbiamo assolutamente andare a recuperare le balle di fieno e poi raga avevo l'intenzione oggi oggi o boh vediamo domani sì domani prossimo episodio di andare a piantare alberi perché voglio provare a fare un pochettino di silvicoltura però prima cosa dobbiamo andare a prendere sta sta erba per cavallo la andiamo boh non so se dobbiamo venderla a no 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 che che venderla dobbiamo portarla ai nostri amichetti cavalli ah e poi a proposito un'altra cosa anche alla ccm che mi avete detto nei commenti se siete stati molto gentili vi ringrazio mi avete detto simu vai a venderla direttamente col treno dato che quello lì è il punto vendita del treno così vediamo anche la vendita col treno e quindi andremo a scaricare lì e poi andremo a ricaricare ovviamente con il treno così andiamo a fare un unico scarico una volta e basta direi intanto qua eccole qui ok ne sono uscite la bellezza di 10 non ce n'è più in giro anzi però prima di andare farei un'altra roba innanzitutto eccola qua l'imballatrice della kun che volevo farvi vedere l'ho tenuta apposta ma adesso la possiamo anche tranquillamente restituire tanto oramai non ci serve più ok e devo far partire lui però raga un attivino allora avevamo detto anche sul campo 23 semi di soia si campo 23 semi di soia e poi campo 1 avevamo detto il frumento partiamo da così poi andiamo a a scaricare tutta la ccm tanto qua prima di poter raccogliere ci vorrà un po di tempo è quindi ok eccoci arrivati allora vediamo un pochettino se qualche cosa me lo fa già scaricare se ne hanno bisogno magari mi fai scaricare oppure vediamo un po fieno fieno per cavallo 100% sì sarei già preso tutto lo possiamo anche forse un pochettino andare a vendere magari fieno 450 al biogas ma se io me lo vado a vendere raga tanto al limite lo possiamo fare tanto glielo ho dato tutto quello che gli serviva ok raga eccoci arrivati allora vediamo qua se mi fa scaricare direttamente sì mi fa scaricare tutto perfetto poi dovremo mandare avanti il tempo perché secondo me qua da sto biogas specialmente in queste ultime due puntate abbiamo venduto un sacco di roba ok eccoci arrivati in farm allora questo vai stacca perfetto allora partiamo direi con la vendita della ccm nel senso eccolo qua questo è bello carico perché io già off camera me l'ero andato a caricare ok come vedete ho già preparato off camera il treno porca misere ma tutti sti pezzi ogni volta ok dicevo ho preparato anche il treno off camera così almeno siamo già a posto vediamo poi di farlo direttamente caricare tanto lì dovrebbe essere lo scarico del treno uuuh raga grossa problematica ccm non accettata qui ma questi silo possono predisporre a no scusate infatti silo altre capacità mi dà il trattino ovviamente a questi silo qua possono tenere solo le cose base uuuh e allora ci tocca comunque vendere come stavamo vendendo raga non possiamo fare altrimenti io pensavo che potevamo vendere invece tramite il treno a peccato volevo vedere anche la vendita con il treno e vabbè niente venderemo qualcos'altro con il treno ok raga eccoci arrivati al punto adesso in teoria allora vai vendi no mi fa scaricare comunque da dietro peccato che non c'è il punto per lo scarico differente allora in teoria adesso stiamo vendendo sul treno e raga anche se vende c'è l'animazione di qua però sta vendendo in questo punto vendita di qua infatti vedete che stanno arrivando i soldi vediamo 81 mila euro porca non male non male da tutta sta ccm ci facciamo un bel po di soldoni ok per il momento continuiamo qua lo scarico nel frattempo nel frattempo ecco volevo vedere lui come stai messo beh ormai qua quasi finito a questo punto ci prendiamo dove sta un altro trattore eccolo qua andiamo a prendere la piantatrice andiamo no scusate la seminatrice andiamo al campo 1 e andiamo a seminare il frumento sul sul campo 1 ovviamente ok allora facciamo ovviamente primo punto e lo mettiamo a seminare il bel frumento vai avvia percorso ok intanto lui va almeno iniziamo a seminarci sta roba qua cos'è meno abbiamo terminato con le semine non ci rimane nient'altro ok altro carico andato vediamo se effettivamente avevo ragione se mancano ancora circa 25 mila litri si 27 ok perfetto quindi ancora questo e un altro carico al massimo dai carico un carico e un pochettino al massimo e voilà nel frattempo i nostri classici 81 mila euro tra virgolette sempre ce li siamo portati a casine siamo già a 291 mila euro detto ciò ragazzi sapete cosa vi dico terminiamo poi tutte le vendite e oggi ci andiamo assolutamente a comprare due nuovi campi perché è ora di estendere un pochettino la farm ancora e poi insomma dato che abbiamo i soldini voglio un pochettino anche spenderli eh dobbiamo però andargli a portare non ho capito perché il same fa sempre finire i semi così in fretta carichiamogli le sementi punto successivo vai perfetto ok e qua è andato va bene per il momento adesso questo lasciamolo un secondino qui tanto voilà dovrebbe aver finito in teoria sì urca ce n'era un po' di più di quello che pensassi eh va bene comunque ha finito raga ok 79 mila euro siamo arrivati a 370 mila euro abbiamo guadagnato all'incirca 445 mila euro solo dalla ccm ma potrebbe anche essere mo non saprei dirvi adesso facciamo una bella cosa mandiamo avanti fino alle 23 e poi mandiamo un pelino avanti a quanto abbiamo guadagnato 100 180 mila euro più o meno dai mi aspettavo un po' di più sinceramente dal biogas eh a questo punto mandiamo ancora avanti perché tanto da mai 551 mila euro siamo arrivati buono buono mezzo milione di euro abbiamo non so che fare con sto mezzo milione sicuramente due campetti me li andrei a comprare e già so quali campettini a comprare anzi quasi quasi direi che possiamo farlo direttamente ora vediamo quanto abbiamo guadagnato per la precisione 181 mila euro allora volevo comprare il campo 15 e campo 16 in un unico lotto purtroppo noto che il rendimento potenziale previsto è molto scarso perché abbiamo quasi tutti i terreni il 75 per cento dei terreni a sabbioso franco beh però devo dire il campo 2 non è male ci sono 5 ettari di campo sì c'è orzo in fase di crescita ancora meglio bene va bene va bene va bene prendiamo prendiamo il campo 2 allora compra sì ok campo 2 è nostro ora però la prima cosa che devo fare sicuramente andare a vediamo è campo 2 questo qua dobbiamo probabilmente analizzarlo e sì per forza prendiamo quasi quasi l'f 140 tanto va più che bene ok andiamo portare il sensore sul campo 2 iniziamo ad analizzare sto campo va così almeno ci portiamo avanti ok nel frattempo mi riempio di fertilizzante e poi andiamo accidenti e poi andiamo a sto campo 2 va così iniziamo a vedere di che cosa ha bisogno vai fertilizzante perfetto eccolo qua raga è proprio questo mega campone qua di fronte a noi mamma mia che meraviglia sto campetto ok ecco l'ingresso del campo allora dispieghiamo sta a fare qui intanto questo qua io direi che possiamo un attimino staccarlo che mi risulta un po più semplice vai accendiamo e partiamo con l'analizzazione del campo vi taglio sta parte perché sta parte qua fa laggare tantissimo sia me che il video ok raga terminato allora manca quest'ultimo pezzettino o finalmente basta mi sono stancato mamma mia mi fa girare degli occhi fare sta sta roba qua allora abbiamo diviso da tre praticamente sabbioso franco franco sabbioso e franco allora valore ph ok azoto scarso e direi che allora partiamo con il ph così poi quando passiamo l'azoto il ph si toglie ovviamente non rimane quel fastidiosissimo bianco sul campo che non mi piace ha fatto sul seminato specialmente ok eccoci arrivati allora 3 2 1 vai spandiamo tutta bene bene la calce perfetto ok raga ultima passata e direi che ho la abbiamo finito perfetto calce viva gliel'abbiamo passata almeno così a posto ed è bastata anche tutta in realtà non mi aspettavo che bastasse tutta invece è bastata bom dobbiamo passare a questo punto adesso alla parte fondamentale ovvero il fertilizzante valore ph perfetto ok dobbiamo passare al fertilizzante che è la cosa fondamentale per l'orzo però prima di fare tutt'altro cioè prima di partire con questa lavorazione intanto qua attacchiamo devo andare a rivedere di nuovo come sta il same cioè per seminare un campetto così piccolo fare tutti sti danni io veramente non lo comprendo giuro non lo comprendo perché per come avete visto il landini si che vabbè seminava semi di soia quindi aveva bisogno di meno cose però non so cioè mi sembra che solo il same dia sti problemi vabbè per il momento qui ok stiamo andando siamo ripartiti speriamo che finisca in fretta e vado a prendere il landini ok possiamo partire ufficialmente con la lavorazione principale ovvero passiamo l'azoto sul campo 2 oh che meraviglia raga ok 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 Grazie a tutti. Ok raga, ultimo pezzettino e direi che abbiamo finalmente terminato. Ok, allora buonferma, meno male mi è bastato anche tutto eh. Perfetto, abbiamo dato un bel boost a questo campo che sicuramente produrremo tantissimo tantissimo orzo. Ok, perfetto, poi dovremo andare a sistemare solamente il frumento e campo 221 no perché, 2321 scusate no perché c'è semi di soia. Dobbiamo andare a sistemare il campo ad erba a questo punto che andiamo a piantare come avevamo detto andiamo a piantare alberi. Nel pochissimo tempo che c'è rimasto ovviamente non andremo a piantarli oggi perché comunque siamo arrivati alla fine della puntata. Ok, perfetto, allora rieggiatore alla mano e andiamo verso il campo ad erba a iniziare ad arieggiarlo. Io per il momento parto raga, ovviamente non avremo come detto il tempo perché oramai è finita la puntata però almeno partiamo. E poi non so se me lo continuerò io off camera, lo termino io off camera di arieggiarlo oppure se continuiamo direttamente nella prossima puntata. Vedrete nella prossima puntata sicuramente che cosa avrò combinato. Ok, campo, punto primo, voglio dire no, fermo il percorso con la lavorazione, primo punto, ok, e facciamolo lavorare. Ok, intanto io qua ovviamente lo faccio partire, poi vediamo come detto se riuscirò a finirmelo io off camera oppure se appunto lo continueremo nel prossimo episodio. Detto c'è raga, io direi che per questo episodio comunque possiamo fermarci qua, sperando che il same nel frattempo abbia finito o meglio quasi perlomeno, direi di sì, lo lascio terminare quindi. Quindi nel prossimo episodio almeno abbiamo terminato tutte le semine o quasi, oltremmo mancherebbe solo il campo ad erba. Per il momento come detto ci fermiamo qua, ovviamente vi ricordo raga che in descrizione potete trovare i miei link utili, il link delle donazioni, il link per comprare tanti veggie scontati e ovviamente anche il link partner giants. Se volete supportare il canale, volete preordinare anche Farming Simulator 22, se lo fate dal mio link supporterete anche il canale e vi ringrazio. Detto c'è raga, io direi che per questo episodio ci possiamo terminare, vi mando un grosso saluto e ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!